Marcello Messina, 29 anni, una delle eccellenze dello sporto alcamese, eccelli nel surf casting, la pesca sportiva, una passione che è cominciata quando? È una passione che è iniziata fin da bambino, da quando con il nonno si andava in spiaggia, insomma dal comomarina a direttarsi un po' così nella classica pesca. Da lì poi pian piano è una passione che è sempre cresciuta, fin quando nel 2012 sono entrato a far parte di una società di pesca, la PS Mormora di Alcamo, una società storica e da lì quindi è iniziato il mio percorso agonistico. Pian piano con i vari risultati sono riuscito a qualificarmi per il campionato italiano dove nel 2015 ho fatto un bronzo individuale, da lì l'accesso al club azzurro che subito l'anno successivo ho vinto e quindi da quel momento sono entrato nella nazionale italiana di surf casting seniors che è la categoria principale, la nazionale principale del surf casting. Hai un palmares di tutto rispetto anche per quanto riguarda i campionati mondiali, gli ultimi mi pare quest'anno a squadre. Sì, diciamo che dal 2016 ho disputato diversi mondiali, uno con la nazionale a coppia e lo abbiamo vinto nel 2018 in Spagna, mentre quest'anno siamo riusciti finalmente a raggiungere la tanto attesa medaglia anche nel seniors. Abbiamo fatto medaglia d'argento in Francia, sì, argento a squadre, sì. Ecco, la curiosità che hanno un po' tutti quanti, ma cosa c'è di difficile o di facile nel pescare? L'immaginario collettivo fa ipotizzare che si va in spiaggia, si lancia la canna, la lenza e poi se sei fortunato il pesce a bocca, se sei sfortunato non a bocca. Quali sono le tecniche, come funziona questa disciplina? Sì, diciamo che non è così semplice, è una disciplina abbastanza complicata che va a richiedere anche particolari sacrifici perché vi è tutta una preparazione, sia tecnica sia anche fisica comunque, perché bisogna anche allenarsi nel lancio e quant'altro, ma soprattutto tecnica in quanto le varie travisse, i vari terminali. Poi non è la classica pesca che siamo abituati a vedere, del vecchietto con la sedia che arriva, si piazza e sta seduto ad aspettare che il pesce vada a mangiare, ma è una continua e costante ricerca del pesce su varie fasce, insomma cercando di interpretare al meglio ciò che abbiamo davanti, cioè il mare, che non è un semplice specchio d'acqua come la maggior parte delle persone sono abituate a vederle, ma è un insieme di dislivelli, di gradini, di canaloni, di secche che ci si prospettano davanti e quindi in base alla tipologia di pesce che si va a insidiare e le condizioni del mare che vi sono, in quel momento bisogna capire quali sono i punti più adatti a insidiare quella tipologia di pesce, con i vari inneschi, i vari terminali, le varie travistiche, quindi c'è tutto un mondo dietro, uno studio dietro. La pesca sportiva fa parte degli sport poveri e non ci sono grossissimi guadagni, però ci sono sponsor e aziende che vi supportano, oltre che la federazione. Tu sei testimonia della Trabucco, che credo che sia un'azienda importantissima in questo settore. Sì, io sono un collaboratore, un testimonial della Trabucco, che è un'azienda leader nel settore della pesca sportiva, quindi sicuramente è un contributo importante che l'azienda riesce a dare per prepararmi al meglio nelle mie competizioni.